Sono Fabrizio Rossetto, lavoro presso il centro per l'impiego di Seregno, dove ho lo sportello Eures, che è uno sportello che attivo dal 2013, quando ho iniziato la mia attività, e mi occupo in sostanza di tutto ciò, poi lo vedremo magari nel dettaglio, di tutto ciò che è la mobilità trasnazionale, quindi all'interno dei 32 paesi che partecipano a Eures. Le persone che vengono da me, normalmente possono essere di tutti i tipi, quindi da persone giovani che magari hanno finito l'università o magari hanno finito gli studi, piuttosto che persone con esperienze professionali, e quindi a chiedere informazioni, avere supporto sulle ricerche lavorative, piuttosto che la preparazione del curriculum, piuttosto che indicazione di natura amministrativa. Diciamo anche che quando uno pensa di cercare lavoro all'estero usando la rete, comunque deve preparare degli strumenti di ricerca, tipo il curriculum in inglese. Chiediamo o suggeriamo alle persone di prepararsi, perché comunque siamo in una comunità di più di 500 milioni di persone, quindi la concorrenza è tanta, ci sono tantissime offerte di lavoro, il sito Eures presenta al momento qualcosa come 3 milioni di offerte, molte delle quali ovviamente sono in stand-by, molte delle quali magari sono già chiuse o vengono mantenute per un discorso di raccolta dati, però le offerte di lavoro sono tante, quindi una cosa che noi chiediamo e suggeriamo è quella normalmente ai ragazzi, comunque a tutte le persone di prepararsi con notevole anticipo, quindi preparando bene la propria candidatura, perché proprio in virtù del fatto che c'è tanta concorrenza all'estero, molte volte il rischio che una persona, un italiano, tenda a candidarsi o andare addirittura all'avventura, quindi andare direttamente nel paese dove è interessato a trovare lavoro, ma senza gli opportuni strumenti e quindi magari finisce per la sua candidatura, che magari può essere anche interessante, con delle esperienze professionali importanti, ad essere accantonata perché qualcun altro nel frattempo, proveniente da un altro paese, ha preparato meglio il curriculum, l'ha sistemato bene, l'ha scritto bene nella lingua di quel paese e quindi passa avanti, quando invece può essere utile fare un discorso di preparazione, anche di capire, perché anche su questo ho notato diverse, un pochettino di fretta da parte delle persone, ah voglio provare l'esperienza relativa all'estero, no, bisogna comunque avere tutta una serie di condizioni, capire quali possono essere e avere tutte le informazioni per poter andare, perché se si va, faccio l'esempio, fino al 31-12-2020 sarà possibile andare in Inghilterra, nel Regno Unito senza alcun problema perché siamo ancora in una fase di transizione rispetto alla Brexit, però per esempio Londra non è una città facile, non è una città economica e quindi comunque se una persona va all'avventura e dice ma sì ma tanto un posto di lavoro lo trovo, faccio il commesso, faccio il barista, non è vero, e il rischio è quello di andare a spendere soldi, cercare una casa in affitto, non trovare lavoro e poi tornare a casa più povero di prima, nel senso che non si è riuscito a trovare alcuna possibilità lavorativa e quindi è stata un'esperienza fallimentare e magari facendo in questo modo si rischia anche che una persona perda la fiducia o l'interesse per il lavoro all'estero, che invece può essere interessante, può dare delle ottime alternative nel momento in cui appunto ci sono delle, c'è una preparazione all'andare all'estero. Il sito di EURES presenta tra quelle che possono essere le offerte di lavoro, presenta anche una sezione dedicata a tutto quelle che sono le condizioni di vita e lavoro in un altro paese, che normalmente sono le prime cose che vengono richieste alle, che le persone mi richiedono quando vengono a fare il curriculum o a vedere come funziona lo sportello EURES, tipo ma quanto costa la vita, ma quanto mi danno di stipendio, ma cosa devo fare per affittare una casa, dove la trovo, quali sono, quali potranno essere poi alla fine i soldi che porterò in Italia, dovrò dichiarare, tutta una serie di informazioni tecniche ed economiche che sono molto importanti e che molte volte vengono prima. Invece il consiglio che normalmente io do è di farlo dopo, cioè prima si vede se c'è qualcosa di interessante nel paese dove si vuole andare e dopo si fanno tutta un'analisi di quelle possono essere le condizioni economiche, perché sono completamente diverse in molti paesi rispetto all'Italia. EURES quindi cos'è? È un servizio della comunità europea che è nato a seguito del trattato di Schengen che permette la libera circolazione di mezzi, persone, capitali all'interno dello spazio economico europeo ed è un servizio costituito da una rete di consulenti, quale per esempio posso essere io, ma ce ne sono circa una tantina in tutta Italia e più di mille in tutta la comunità europea che lavorano soprattutto al 99,9% in se centri per l'impiego, le regioni, le province, eccetera, e la cui funzione appunto è aiutare persone che vogliono appunto andare a lavorare all'estero. Allora, il servizio EURES quindi riguarda i 28 paesi della comunità europea propriamente detti, quelli in verde, blu petrol, non so come definirlo, tre paesi che fanno parte dello spazio economico europeo che sono in Arancione, la Norvegia, l'Islanda e l'Ikestein e un paese come la Svizzera che non fa parte della comunità europea però avendo trattati bilaterali con tutti i paesi limitrofi partecipa anch'essa al servizio EURES. Comunque in tutti questi paesi è possibile entrare senza alcuna limitazione, basta una carta di identità valida, quindi non scaduta e solo per la Svizzera sarà poi necessario un secondo momento, cioè nel momento in cui si trova lavoro, quello di richiedere un permesso di lavoro che varia a seconda della condizione in cui poi la persona si troverà, quindi il classico permesso G se è un frontaliere oppure permessi di dimoro, permessi di soggiorno a seconda di quello che uno poi sceglierà di fare. L'altro aspetto importante del servizio EURES è il portale, a questo portale tutte le persone possono accedere in maniera utonua, quindi non è necessario che ci sia io o che metta delle mie credenziali per entrare, quindi qualsiasi ragazzo può decidere autonomamente di entrare nel portale, andare nella sezione verde qui dove si trova lavoro, sono in cerca di lavoro e entrare e vedere tutte le offerte di lavoro. Accedendo al portale EURES la persona autonomamente può vedere quelle che sono le offerte di lavoro, sono presenti circa 3.454.000 offerte di lavoro che sono tutte le offerte di lavoro autoctone, cioè ogni singolo paese ha delle offerte di lavoro dal sito nazionale di riferimento, quello che può essere il nostro AMPAL per intendici o clic lavoro, praticamente confluisce anche sul portale EURES. Se però le persone vogliono, come si chiama, avere una maggiore certezza sulle offerte di lavoro, si guardano quelle con il contrassegno EURES, perché? Perché sono le offerte che le aziende inseriscono grazie al supporto dei consulenti EURES. Visto che stiamo parlando anche di tempi, non è immediata la risposta perché i ragazzi devono capire che tra la candidatura e la scelta ci sarà un tempo che scorre, non un tempo lunghissimo perché oramai internet ha accorciato i tempi, però come abbiamo detto prima c'è un'azienda che si rivolge o direttamente, quindi il processo sarà leggermente più veloce e anche più diretto e uno invece indiretta perché utilizza il consulente EURES come intermediario per l'inserimento e magari anche per una prima scrematura. Questa slide come la potete vedere, praticamente si riferisce a un tipo di ricerca legato al lavoro stagionale, lavoro stagionale che non è solamente quello estivo per il quale comunque c'è un ritardo, perché la stagionalità in molte parti d'Europa inizia ad aprile-maggio e quindi le candidature cominciano a essere ricercate, le figure professionali cominciano ad essere ricercate da febbraio, ma magari intendiamo anche la stagionalità invernale per cui paesi come la Lapponia, quindi la Finlandia, per adesso che la Norvegia, per adesso che la Svezia, cominceranno da ottobre a ricercare personale per dicembre. Lo che normalmente io propongo e suggerisco alle persone è di avere un inglese almeno B2, quindi a un livello di autonomia per due motivi. Il primo che ovviamente se si va in un paese straniero, oltre a lavorare e quindi avere una conoscenza magari tecnica dei termini che vengono utilizzati sul lavoro, bisogna anche viverci e quindi come tale se non si ha la possibilità di comunicare con altre persone, con il vicino di casa o di pianerottolo, effettivamente questo può creare un problema. E il secondo proprio per quella cosa che ho appena detto, nel momento in cui abbiamo un inglese titubante, abbiamo da fare un video, una videochiamata per un primo colloquio informativo e conoscitivo e la connessione va e viene perché abbiamo problemi, non abbiamo la fibra, abbiamo una DSL che va e viene eccetera eccetera, rischiamo di perdere una buona opportunità perché non capiamo quello che la persona ci sta dicendo dall'altra parte. Non viene richiesto un inglese certificato, quindi a meno che non si vada in determinati settori, come settore sanitario, ne dico tanto per dire, però comunque una buona conoscenza dell'inglese è assolutamente, è un ottimo passepartout. Come si fa a trovare lavoro tramite EURES? Ci sono due possibilità, la prima, e la potete vedere qui, è la possibilità di inserire dentro nella schermata di ricerca, nella riga di ricerca, di poter inserire una parola chiave, in questo caso seasonal piuttosto che metto waiter piuttosto che altri termini. Qual è la problematica in questo caso? Che il sito andrà a trovare in tutte le ricerche, tutte le ricerche presenti, la parola seasonal o la parola waiter o entrambe, solo che sono scritte in inglese, quindi se ci sono offerte di lavoro per un cameriere mai scritto in francese o tedesco non le trova. L'altra soluzione è quella di andare, dove ho messo la freccia, andare a cercare, rimanendo nello stesso esempio cameriere, ubaristi, ma andano a cercare qua, tra le professioni. Questa è la classica, come possiamo dire, definizione delle mansioni come capita sui codici ISTAT. Io metto cameriere, il portale andrà a cercare la parola cameriere tradotta in tutte le 32 lingue dello spazio presenti in EURES, quindi quello sicuramente permette di non perdere delle eventuali offerte di lavoro. Poi c'è la possibilità di aggiungere tutte quelle che sono le conoscenze linguistiche, per esempio l'inglese, il russo, il tedesco, eccetera, eccetera, ed eventualmente anche vedere se ci sono delle offerte di lavoro che possano avere dei benefici extra, per esempio l'alloggio piuttosto che pasti, piuttosto che per le spese di viaggio, tutti dei benefici che magari qualche struttura, qualche hotel, visto che siamo sempre nell'esempio del settore alberghiero e del lavoro stagionale, può magari concedere alle persone che vanno a lavorare e quindi perché no, si può provare a vedere. Andare nello specifico possibile per cominciare, cioè io ho un'esperienza professionale, la uso, la cerco subito e vediamo cosa offre il mercato europeo, perché in questo caso succede, nel momento in cui io inserisco tutti i dati, vado qui e clicco ricerca, automaticamente mi va a cercare in tutti i luoghi, in questo caso in tutti gli stati della comunità europea, quelle offerte di lavoro, così io posso capire se con la mia professionalità, col mio curriculum, con le mie caratteristiche, io ho speranza di trovare lavoro. Tutte volte le offerte di lavoro sono espresse nella lingua locale, in questo caso è il finlandese, è una delle lingue più complicate del mondo, però per esempio se una persona, un piccolo trucco qual è? Se una persona si iscrive al portale EURES e inserisce il suo curriculum, c'è la possibilità di iscriversi, praticamente ha la possibilità una volta fatto questo di tradurlo, quindi c'è proprio cliccare qui dove ho messo la frecciolina traduci e la possibilità è il sito traduce in maniera non eccessivamente precisa, diciamo dico un po' meglio del Google Translator, ma neanche più di tanto, per esempio questa è la traduzione. Se si va invece in paesi come la Spagna, come la Francia, come la Germania, eccetera, eccetera, la stessa Polonia, allora magari vedere, si può anche cercare di capire prima se l'inglese è ben accolto oppure no, perché dipende sempre da una serie di fattori, dipende anche dal tipo di mansione, quindi sono tante le caratteristiche che una persona da avere. C'è la possibilità di inserire il proprio curriculum, ecco, l'ordine è quello del curriculum vitae europeo e poi ci sono le ricerche fatte da noi, nel senso come ho detto prima, è possibile che un'azienda richieda a noi di fare una prima schermatura tramite delle ricerche, per esempio in questo caso è un grande parco di avvertimenti tedeschi che ad aprile 2019 ha fatto delle ricerche in Italia, quindi succede la rete EURES, Lazio, ha organizzato una job fair, una fiera del lavoro, di una giornata in cui praticamente tutte queste profili, le persone che si potevano candidare andavano, venivano da quel parco di divertimenti o dal rete EURES Germania delle persone a fare i colloqui e poi i migliori curriculum venivano portati in Germania e da lì sarebbe cominciato poi l'ultima fase del reclutamento. E questa è la parte che è la parte in Bordeaux presente nel portale EURES, dove c'è tutto il discorso delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Quindi praticamente cliccando su uno dei vari paesi c'è la possibilità di entrare e verificare quello che è il mercato del lavoro, quindi con le maggiori ricerche, quali sono le mansioni che più ricercano dagli altri paesi. C'è la possibilità, ultime due cose sul portale che voglio farvi vedere, di contattare i consulenti EURES, contattarli attraverso appunto servizi EURES, cosa può fare EURES per te, consulenti, ricerca di consulenti. Sempre all'interno dei servizi EURES, chatta con i consulenti EURES, ci sono, non per tutti i paesi, ma per molti, la possibilità di chattare. Tendenzialmente si occupa al 90% di offerte di lavoro piene, quindi con persone con esperienza, quindi il tirocinio è meno considerato. È chiaro che sono offerte di lavoro comunque reali con un minimo di conoscenze e di esperienza professionale, in alcuni casi anche molto di più Cosa è lo European Job Days Online? Può essere costoso, può essere difficile, può essere logisticamente impossibile comunque andare in una fiera on-site. Per permettere alle persone di avere accesso alle offerte di lavoro di tutti i paesi della comunità europea tramite EURES è stato creato questo sito che si chiama European Job Days Online. Presenta una serie di fiere online, fiere del lavoro che si teneva l'11 marzo dedicata alla Norvegia, la Finlandia e la Svezia, con le offerte di lavoro, piuttosto che Sisa Summer, questa è l'offerta di lavoro stagionale con le quali anch'io collaboro da 4-5 anni, il lavoro, le careers in Ireland 2020, quindi è un evento completo perché si trovano le offerte di lavoro e uno può farlo tranquillamente stando a casa, attaccato al proprio computer, gli exhibitors, quindi le aziende che offrono lavoro, c'è la possibilità di registrarsi all'evento, bisogna registrarsi preventivamente e il giorno stesso presentarsi, guardare un po' tutte le varie caratteristiche, inserire il proprio curriculum, avere informazioni sulle maggiori offerte di lavoro, vedere alcuni filmati tramite il View Agenda nel quale praticamente i consulenti danno delle informazioni abbastanza precise sulle living and working conditions, quindi sulle condizioni di vita di lavoro all'interno di un singolo paese della comunità europeo, all'interno di ogni singola azienda, exhibitors che partecipava, scusatemi, c'era la possibilità addirittura di vedere le caratteristiche di questa struttura, in questo caso questo Hotel Corsica 5 Stelle permetteva anche di avere un riferimento della persona che si occupa di uno Human Resources Manager, oppure addirittura la mail a cui mandare una candidatura e poi le offerte di lavoro. Nel pomeriggio c'è la possibilità di prenotare degli slot di tempo, delle finestre in cui praticamente la persona si prenota, l'azienda è a disposizione perché è indiretta in quel momento, si possono fare dei colloqui di lavoro. Capire se c'è una connessione adeguata, per cui prima di tutto è sincerarsi di avere una buona rete, una buona connessione interna e quindi è importante. La seconda cosa è ovviamente curare il più possibile quello che è l'aspetto dell'immagine, quindi il come ci si presenta, perché è vero che il video colloquio ha delle caratteristiche diverse rispetto a un incontro faccia a faccia, perché la preparazione ad hoc diventa importante per non dare un'idea di pressapochismo durante il colloquio. E poi ci sono i vari siti nazionali di ogni cosa, per esempio molto importante, vediamo un attimo allora questo qui, quello tedesco, il job borse, oppure lo Zav, cioè in Germania lo Zav è il sito di riferimento per tutti coloro che da altri paesi della comunità europea vogliono andare a lavorare in Germania, è fatto veramente veramente bene perché dà una serie di informazioni in tutte le lingue, tra cui l'italiano, su come andare a lavorare in Germania. Stanno diventando molto importanti le competenze informali e non formali a livello di scelta delle candidature e vengono utilizzate anche come criterio per la valutazione di una persona.